occorre un partito italiano di centro ma che si schieri apertamente contro questa sinistra e che invochi parte del popolo di destra a votarlo dicendo che farà delle cose di destra e cioè il libero mercato, la responsabilità individuale, la meritocrazia, la riforma del fisco, il taglio delle spese pubbliche progressivo ma serio e la difesa ad oltranza dell'appartenenza dell'Italia al mondo democratico occidentale senza se e senza ma. Il programma elettorale semplicissimo che comincia apparteniamo all'Olleanza occidentale, gli Stati Uniti hanno fatto tanti errori e dovremmo criticarli di più, dovremmo avere una politica estera autonoma e dargli sui denti quando sbagliano, cosa che non abbiamo fatto, ma apparteniamo all'Alleanza occidentale, apparteniamo alla Nato, ne siamo fieri, vogliamo la democrazia e la libertà, Putin è un nemico, il regime russo è un regime nemico, fino a che la Russia non cambia regime noi stiamo dall'altra parte, con la Russia non si commercia. La dipendenza energetica va posta fine alla nostra dipendenza energetica da paesi dettoriali, va diversificata l'offerta e va introdotto il nucleare. La scuola e l'istituzione italiana sono arretrate, fanno danno, non preparano i giovani al mondo del lavoro, alla società in cui devono vivere, c'è bisogno di meritocrazia, c'è bisogno di cambiamento dei programmi, c'è bisogno di adattamento della scuola al mondo contemporaneo, al futuro per i giovani, la mobilità sociale e l'opportunità di mobilità che c'è. Occorre riformare drammaticamente sia giustizia che scuola, occorre tagliare la spesa pubblica e quella pensionistica in particolare al più presto e occorre tagliare l'imposizione rendendola meno favorevole alla microimpresa e più favorevole alle grandi imprese produttive. Ovviamente bisogna stare in Europa attivamente, cercando di metterci al passo tecnologicamente in termini di fluidità dei mercati con gli altri paesi europei. Occorre ridurre il controllo politico sul sistema economico e liberalizzare ulteriormente, privatizzando, lasciando che le banche diventino private per davvero e vengono anche comprate da altri, chi se ne frega. Non c'è alcuna ragione di controllare politicamente intesa in unicredito. Ecco, questo è il mio programma elettorale che qualcuno dovrebbe provare a fare e basta un 10%. E' certo che basta un 10%. Fate la squadra e vedrete che prenderete il 12. Vedrete che prenderete il 12. C'è una domanda, no, bisogna far sparire Italia dei Valori, Azione, più Europa, bisogna farli sparire e fare la squadra con un nome nuovo e con alcuni leader eccessivamente egocentri e eccessivamente convinti di avere la verità in tasca e di poter comandare solo loro, che si fanno da parte. Esattamente come intendo fare io, io non sono qua a fare politica, io sono qua a fare propaganda ideologica, sto facendo il chierico e faccio quello che devo fare, vi faccio riflettere, invito a riflettere sulla necessità di un partito di questo tipo e dovete chiederlo voi e smetterla di piegarvi alle follie narcisistiche dei cosiddetti leader, i quali farebbero bene fare un passo indietro. E credo che ci potrebbe essere tranquillamente un gruppo di molte brave persone provenienti da vari sentieri, alcuni già in Parlamento e altri no, che potrebbero fare la squadra da presentare al Paese e porterebbe a casa un 10-12% probabilmente e diventerebbe l'ago della bilancia, un importantissimo ago della bilancia, quello che non si capisce, perché i voti uno vale uno e si pesano uno a uno quando è ora di alleggere i deputati, ma una volta che quei deputati e senatori arrivano in Parlamento si pesano con criteri diversi i voti in Parlamento, si pesano quelli del cervello, della competenza, degli stati sociali che rappresenti, della tua capacità di mobilitazione, della tua capacità di produrre proposte e quindi anche se sei un gruppo che vale il 10% del Parlamento, puoi contare, perché questi vanno legnati senza pietà, legnati ovviamente metaforicamente, politicamente, ideologicamente.